Seat ha svelato a Londra la versione speciale della piccola city car Mii realizzata in collaborazione con Cosmopolitan. La serie speciale della Mii si inserisce nella schiera delle cittadine che fanno tendenza. Caratterizzata da esclusive colorazioni violetto o bianco candy, la Mii by Cosmopolitan è accessoriata tra l'altro con sensori di parcheggio, app dedicata, carica telefonino wireless e sound system da 300 watt. Per questa settimana è tutto. L'appuntamento con Ruote in Pista è per domenica prossima alle 23 su Sport Italia. Nel frattempo potete seguirci su www.ruoteinpista.com e sui social network.